nel cesso ci sono due categorie di mangiate ci sono quelli che ci stanno immortali attraverso le loro opere che nonostante il passare degli anni continuano ad emozionare tantissime persone e ci sono gli artisti che invece vengono dimenticati o sopravvivono solo nel ricordo di pochi io pensavo proprio di essere un cesso ma poi quando non ci sono più in realtà non fa molta differenza perché in questi anni non mi ero mai reso conto che le mie semplici 2006 mangiate fossero così importanti per gli altri non sono uno il mio primo video mentre mangiavo 3-4 amici l'ho fatto nel 2006 quando praticamente youtube esisteva ed era un video fatto e così mangiavo 3-4 amici per puro divertimento e per condividere con 3-4 amici quelle mie avventure e disavventure pone per regalare anche solo pone alla vostra giornata e portarvi con me per scoprire assieme pone qui poi ci siamo innamorati e tutti quei diseru quelli che ne ne ha sulla cucuponese che ci hanno fatto sorridere assieme in una sorta di oggi sono reso conto più che che questo viaggio l'abbiamo fatto stiamo facendo c'è stato un preciso momento in cui ho capito davvero di essere molte persone è stato proprio quando ho smesso di fare molte persone sia lo scorso anno quando mi ero preso una la sua sia in quest'ingrocio in questo video è un piccolo pensiero per cercare di ricambiare il vostro affetto e dirvi che anch'io sono fatto smoke weed every day